Benvenuti ragazzi a Master and Servant, io sono Oli, stiamo giocando con Khmer questa partita con lo scopo, è una sfida, quindi c'è uno scopo dietro, la fondazione della Cambogia che non si può fare mai questo territorio qui e diventare una teocrazia che si può fare con il nuovo Government Reform che sono, dobbiamo fare ancora 1, 2, 3, 4 tier, quindi un sacco di punteggi, non so se ce la faremo nel senso che nel 528 faremo il tier 4, probabilmente nel 600 faremo qualcos'altro, c'è ma da vedere in realtà no, dovrebbe essere agevole, vediamo, adesso siamo in guerra contro questi territori qui fermi qua, mi interessa capire Katapang oppure San Pit, potremmo fare una nuova colonia Abarito, già che parte con 200, oppure Katapang più 50, facciamo Katapang, va, è lentissima Ok, stiamo facendo questa super guerra, io basso un po' la velocità perché non mi fido Questi 8000 sono Ligor? Sono in guerra contro di noi? O sono con noi? Sono contro di noi Ok, perché non li stiamo tracciando? Morale delle armate, vai, spendiamo Dove vanno loro? Vanno a Twai? E noi andiamo qui, cerchiamo di prenderli, fermi tutti Con questa roba qui dovremmo diventare un bel numero Vai Vengono loro da noi, noi li blocchiamo e andiamo in guerra Così buttiamo fuori Ligor, prima possibile Ok, buona I nostri grandissimi elefanti stanno facendo cose Noi abbiamo vinto Ligor, dov'è? Qua Questo qui è il capital fort e c'è già su Malacca per buttarlo fuori Ottimo lavoro Noi cerchiamo di schiacciare le loro unità Che dovremmo schiacciare qui Alla jungle Eh Abbiamo una penalty Però siamo in numerosità e siamo superiori Li abbiamo schiacciati Andiamo a prendere i loro territori, va? Territori che non mi dispiacerebbe avere Fermi tutti Diplomacy Mi piacerebbe avere Questo Ha già claimato Eh sì Però loro forse se ne vanno Lo prendiamo noi Aumento un pochettino la velocità Altra cosa da tenere sotto controllo è questa Devo evitare che vengano a casa mia Ma non mi sembrano Molto propensi Ok Andiamo a prendere il territorio Questo qui Beh cerchiamo di catturarlo noi Lo so ragazzi, lo so Can build province Lo so, lo so ragazzi, so tutto Qui ci sono intanto 26.000 uomini fermi Pronti per loro Ok Malacca ha occupato sto territorio Questo Chi c'è in guerra contro Allora Ligor è quasi Formalmente fuori Diamo una mano per buttare fuori Ligor Allora Allora Ci hanno lasciato soli Quanto pare Meglio Poca fatica Tanta resa Se diventa nostro Lo diamo a Rakai No infatti c'erano loro Va bene Questi Questi sono nostri Sono allegati con Alleati con noi Benissimo Non con noi ma Questa è Malacca Ah si sta espandendo Malacca Bravissimo Ok Vedremo di Passare in Siak Che è in guerra contro Pasai E Siak sta perdendo roba Fermi tutti Cos'è? Pasai contro Siak Siak sta morendo Io aspetto E faccio così Tic Tic Se riesco Andiamo tutti in Siak Soprattutto loro Ok finita Finita la guerra No Abbiamo buttato fuori Ligor E Ligor è stato dato E rimane a Ligor Cosa succede? Infrazione un po' di più Va bene Aggressive expansion Penalty Zero Guardiamo Del prestigio Ducata 10 Ducati Va bene Fine Allora I nostri 10.000 12.000 uomini Sono qui Qua ci c'è Qui c'è Siak Questi qua sono i Pasaiani Che stanno scappando Noi recuperiamo i territori E poi andiamo a prendere Dei territori loro Qua posso avere qualcosa Tipo È stata tutta Clemata Ma dai Ma che strano Va bene Tanni non mi interessa proprio Stiamo facendo un buon lavoro Dai Prendiamo i loro territori Lasciamo che facciano gli altri la guerra E noi evitiamo Di Di perdere Unità Soprattutto E non prendiamo territorio Così teniamo basso L'aggressivo Expansion Tutte quelle cose E ci piace Capital Fort Lasciamo che lo prendano loro Eh Bene Anzi andiamo a dare una mano Perché qua si stanno rinforzando E rischiano di Distruggere la nostra unica linea di difesa Ma ci sono Un sacco di unità E loro sono Stanno diventando tanti E ci sarà uno scontro 20 e rotti mila 16 mila Questo è il capital fort Questo è il capitale Possiamo investire un'idea Idea che ci dà Tariffe globali più 20 Però Al momento Punterò lì Cerchiamo di far cadere sto forte Va Benissimo Loro vanno giù in guerra Andiamo giù in guerra anche noi Se riusciamo Diamo una mano Benissimo Ottima azione Congiunta Andiamo a prendere Deli Questo è già nostro Qua li schiacciano proprio Ok Andiamo a dare una mano Finiamoli Ok Pattai è fuori dai giochi Direi Pasai è fuori dai giochi E io sono fottuto Io rischio di essere fottuto così Tutti con No Sono tutti con me 25 mila contro 17 mila Ok Allora Dobbiamo chiudere questa guerra Assolutamente E poi andiamo a pensare all'altra Diciamo che la combattono i nostri alleati E proverò a chiamare anche Gli amici Malachesi Eh qui Qui è dura Ok Fine Ok Guadagniamo prestigio Eccetera 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 Ok Ora torniamo a casa Torniamo a casa qui Questi sono i nostri Contro chi siamo in guerra Ah va In realtà siamo messi meglio di loro E io vorrei chiamare anche Malach In mia difesa Perché non vieni a darmi la mano Perché era in guerra Hanno aspettato proprio quello Vediamo che succede Prendiamoli uno alla volta E ce la giochiamo Così Allora Metto 4 Finché non riesco a raggiungere I miei territori Poi abbasso un po' la velocità Qui Eh Rischio di perdere I miei alleati 10.000 Ava Questi qua Shutokai Questi Wamperebang Wamperebang è contro di me No Ok Allora Vediamo un po' Chi è contro di me Shutokai Shutokai Che Dove cazzo è Shutokai Tutti qua Ok Ensui Shutokai Allora Dobbiamo buttare fuori Shutokai Il primo possibile Capital Fort Questo E' il territorio Da buttare fuori Come siamo messi in guerra Allora Alleati Un bel po' Rivali 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 No War Enemies Sono Shutokai Il più piccolino Allora Questo qui Dei miei alleati Invece Il più grosso Chi è? A parte noi Wamperebang Arakan è piccolissimo Ci servirebbe proprio Malacca Però Però non Degli alleati Sì Sì H6000 Uomini Mi serviva proprio Malacca Cazzo Yutiaio Questo è in guerra Contro di me No Ok Questo è Langsang Ah è Langsang Shutokai Eh qua C'è un rischio forte Di Perdere Roba mia Arakan sta perdendo tutto Sono tutti qui Arakan lo perdiamo Vediamo che fare Mi serve più gente Mi serve Assolutamente Non ho manpower Cazzo Vabbè Torniamo a casa Non mi dispiacerebbe Chiamare in guerra Malacca Ma non potrò farlo Immagino Perché non siamo più alleati? Non lo so Non siamo più alleati Ma perché? Ah Cazzo Ah è dura È dura qua Mi ha abbandonato Il bastardo L'ho aiutato E mi ha abbandonato Figlio della puttana Riusciamo a tornare a casa Ragazzi O no? Dove siamo? Questi qua 12.000 uomini Fermi lì Andiamo qua Subitissimo Questi che sono Hensway Sono tantissimi Questi sono Shutukai Cerchiamo di abbatterli Così facciamo fuori Un gruppo Siamo in difensiva Ok Cambogiane Cosa è successo? Sconfitta definitiva? Ah Ci ha trattato la pace Cazzo Cazzo Qua è dura Perdiamo Perderemo dei territori Mi preoccupa? No Però Perderemo dei territori Ci rifaremo Cosa succede Se accettiamo la La pace? Tanto qui Ci siamo quasi No Niente Dobbiamo perdere Unità L'unica cosa è Non perdere Territori Cambogiani Poi per il resto Pazienza Dove sono i miei Uomini? Non ho più uomini? Li ho persi tutti? Sì Ma che roba Vabbè Adesso mi porteranno Via dei territori Chiaramente Ci sta Fa parte della partita Del gioco Quelli sono tutti fuori Io sto perdendo Alleati Loro sono felici Grazie al cazzo Aracane si è alleato Con quelli lì Questi hanno perso Hanno lasciato L'alleanza militare Contro di noi Ma intanto Hanno fatto i bastardi Noi abbiamo perso Tutti gli uomini Quindi teniamo Le navi Ferme Vabbè Non è un problema Spero di non perdere Troppi territori Perché vuol dire Puoi lavorare tanto Per riprenderli Dopo cercherò Di entrare In una collision Contro questi Posso darla su Andiamola su Per perdo solo tempo Allora Vediamo un po' Che cosa Loro In realtà Non accettano Non accettano nulla Vogliono questi due Territori Vediamo che cosa Offrono Vediamo un po' Ora hanno tutto Perdo tutto Allora Close Ok Ok Diamo il core Di Ciampa Va bene Non mi Non mi Non me ne frega Ah Forse invece mi frega Vai Ciampa La spacco Tu Ligor Mer Cosa succede Ligor Ci siamo rimpiccioliti Molto rimpiccioliti A dire la verità Allora Vediamo un po' Che cosa succede Diamo tre Due zone A Ciampa Poi Perdiamo Una zona qua Una zona qua Warrap Per dieci anni Abbiamo rilasciato Uno stato Che sarà piccolino Boh E diamo Tutto il denaro Che abbiamo Va bene Questa è andata Di merda Però Ma sono un po' Cercata La Cambogia In realtà Ancora mia Perfetto Perfetto Allora Guadagno a Ducati Guadagno a Ducati Ne ho bisogno Sono a meno 400 Adesso qua Sono soldi Da gestire Pochi rivali Chiaramente E siamo piccoli No Non troppo Nella zona Come siamo messi Abbiamo ancora Un 22 Ma non dubito Alleati Solo SIAC Abbiamo perso Un sacco di alleati Questi sono ancora Nostri No Forse no Aiutai Non è più nostro Ma dai Va bene Ben ci sta Allora Dobbiamo recuperare denaro Grazie 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 Rischiamo Il Traccollo Economico Più che altro Quello SI Chi sono questi Eswe Se ne andate Fanculo Grazie E Qua potrei investire Nuove idee Sì Traffegobladi Questa zona è mia Va bene Sia che ancora Mio alleato Sì Nuove alleate Ciampa Interessante Ciampa Pegu Interessante Pegu Dai Viet Assolutamente No Ciampa Potrebbe Allearsi Con Noi Come si Ammessi Ad alleanze Ne abbiamo Due Ciampa Pegu Dai Viet Q Tai Be We Il problema Che sono Questi Sono grossi Sono diventati Più grossi Della zona Bengal Ciampa Interessato E Pegu E Ciampa Vediamo un po' Ciampa 8000 Uomini Potenziali Enzwey 17000 Sono tantissimi Pegu 9000 Potenziali Pegu È in guerra Contro Token Ed è alleato Con Langsang Ciampa È alleato Con I Ming Sì Ming Si potrebbero Alleare con me Non ho Ah perché siamo Subject È per Peccato Ma troveremo Il modo Troveremo Il modo Di ripigliarci Ragazzi Qui intanto Denaro 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 Portiamo giù L'armi Maintenance A zero I forti A zero E Diamo dei calci Nel culo Alla gente Diplo Repo Anche Ok Denaro Ok Due al mese Benissimo Le mie navi Non le hanno toccate Però Benissimo Questo cosa Mi fa fare Un colonist In più Non potrei usarlo Lasciamolo lì Non ho soldi Per fare Una colonia In più In realtà Ne ho Uno libro Potrei far Questo è il dato No Uno e due Perché ne ho Uno libro Ne ho uno libro In più Barito Quarentena Assolutamente Sì Ok Dobbiamo ripagare I debiti Prima cosa da fare Ripagarli tutti O ripagarne un po' Questi sono Nostri alleati Mi va bene Mi serve un alleato In più Pegu E' un altro alleato Interessante Fa numero Malacca mi ha tradito Maledetti Malacca mi odia Ma me lo ripiglio Me lo ripiglio Lo ripiglierò Prima o poi Non che mi interessi A dire la verità Mi interessa questo Che è migliorato Potenzialmente È probabilmente migliorato Perché ho diminuito L'autonomia E quello è il mio obiettivo Sono un po' più piccolino Chiaro Però il mio force limit È invariato Le navi possono aumentare Puntiamo al denaro Adesso Che fare Puntiamo a quello Ming Occupato da Lang Sang Si sta espandendo Io non ho unità Non ho proprio militari Cioè C'ho 4000 laggiù Pettrebbe essere il caso Di farne qualcuno Tanto per star puliti Tranquilli Mi fare qualcosa Eh va bene Ok Eh no Paghiamo instabilità Che brutta cosa Che mi fate fare Però Però è così 4000 uomini Manpower Dai che Che riprendiamo Il nostro potere In realtà va benissimo Così Se non ci danno fastidio Shatokai Uguale alleanza Shatokai No Lang Sang Ci odia tantissimo In guerra Contro Tolkien Si sta Riespandendo Bravi Cos'è questo Age of discovery And in Ma io non posso Fare niente Non ho niente Essere presente In due continenti Niente Potrei umiliare Un rivale Fare dei punti Ma non sto facendo Niente Lo so Non sto neanche Abbracciando Rinascimento Per dire Non c'è C'è un cazzo Qua Rinascimento Non esiste Qua Non esiste Per nessuno Dai Dai Facciamo Soldi Ok Va bene Dai E' andata così Ma Non è detto Che sia Un male Non è detto Che sia un male Perché ci siamo Ridimensionati Eravamo diventati Troppo grossi Oltretutto Troppo grossi Per Volontà Di una guerra Contro Lang San Che in realtà Ho Seguito Solamente Per diminuirne Il potere Quindi Va benissimo Così Qui Potrei Mandare Gente Questi Non cresceranno Mai Merda Mai 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 Hanno perso Ferocity Quindi Sent Perdo Denaro Cos'è Oh guardate Posso Comprare un'abilità Vediamo che abilità Posso comprare Poi chiudiamo Allora Arrest Mino 5 Aggressive Expansion Non male Transfer Subject Peace Trating No War Cost Niente Armate Cavallerie Più Un'età Ah Questa non è male Colonie sviluppate O Impatto Dell'aggressive Expansion Abbiamo un'aggressive Expansion Molto alto Qua Però io vado Con le colonie Così mi nascono Più forti Non ho rivali Dovrei avere un rivale in più Langsang Assolutamente Tutta la vita È piccolina Adesso si sta riunendo E vabbè E tu sei uno stronzo Perché mi hai abbandonato Ok Dai ragazzi Direi che Anche per questo episodio Ci siamo Ricaviamo denaro Dovremmo ricavare denaro Dalle guerre A dire la verità Però Se io faccio guerra All'anna Quasi quasi C'è una tregua? Sì La tregua Quando finisce? Non me lo dice Allora Tregua 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 Questa Kmer Fino al 23 Troppi anni Qui sono messo così Questo è Alleato con Laomparbang In guerra Contro Langsang E Pegu Se dichiaro Tutti questi Al di là Dei caso Svelli Questi non Entrerebbero Questi forse Quasi quasi Provo Provo a guadagnarmi Del denaro Da lì Perché mi preoccupano Appunto a questa cosa Qui Mi preoccupano Queste loan Qua Che non sono Basse Per niente Sono Mille Denari Solo Mille Vedrai E loro Stanno perdendo La guerra Quindi via Ok ragazzi A prestissimo Come al solito Iscrivetevi al canale Commentate questo video Soprattutto Attivate la campanella Per rimanere sempre Aggiornati Sulle novità E a presto Sulle novità